in collaborazione con sportoutdoorviaggi.it Prenota subito su gnv.it Giver, da oltre 70 anni in viaggio con voi! Cari amici telespettatori benvenuti da Floriano Movone al consente appuntamento settimanale con S4 il toy show di sportoutdoor.tv la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mari di montagna sono le migliori tv private italiane, diverse tv nazionali e alcune tv internazionali potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito sportoutdoor.tv, ora anche con i vostri digital device smart tv, telefonino e personal computer puntata questa tutta dedicata al turismo, a una branchia del turismo, una branchia importante per l'economia nazionale, parliamo di crociera, abbiamo invitato quattro amici che lavorano e operano in questo settore, le crociere vacanza sul mare, vacanza in barca vacanza sui fiumi per scoprire le bellezze della nostra Italia e del nostro mondo con me in studio ringrazio Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, una delle compagnie più importanti nel mondo delle crociere grazie Luca di essere venuto grazie a voi per l'invito dalla Spezia, l'assessore al turismo del comune della Spezia, un amico Paolo Asti, grazie Paolo di essere venuto grazie, grazie a tutti sempre dalla Spezia Emanuela Marchese di Sportador Viaggi un'azienda turistica appena nata che fa l'escursione in barca vera dalla Spezia e poi anche in Sardegna per le bellissime isole della Maddalena e della Palmare delle Cinque Terre alla Spezia, grazie Emanuela di essere venuta e poi parliamo di vacanze esclusive vacanze speciali vacanze che fa solo Giver viaggi e crociere, vacanze fluviali e vacanze nelle mete più esclusive del nostro mondo, grazie ad Andrea Ciao Floriano, ciao Floriano direttore marketing di Giver Viaggi e Crociere insomma una puntata dedicata a questo mondo che fa vedere numeri importanti l'anno scorso più di 11 milioni di turisti sono venuti in Italia di crocieristi quest'anno 11 milioni e 900 mila nel 2020 stanno in Guaso 13 milioni di crocieristi gente che viene e una delle compagnie più importanti in questo settore è MSC Crociere che è partita, pensate dimmi se sbaglio Luca 2320 mila crocieristi erano in cabina a disposizione di MSC Crociere quest'anno 2 milioni e 400 mila posti letto MSC Crociere è sicuramente la compagnia più importante nel mondo delle crociere Sì, ad oggi è la compagnia che vanta la crescita più importante in termini di disponibilità posti letto MSC effettivamente nasce nel 2013 con un vero e proprio piano industriale che la porta dal 2003 in poi diciamo a 127 mila passeggeri fino ai 2 milioni e mezzo di oggi in realtà poi è anche una società estremamente sportiva che mi fa piacere parlare e raccontarla sempre perché accettiamo molte sfide le nostre sfide più importanti non solo sono le crescite passate quindi quello che abbiamo già fatto ma anche quelle future oggi la compagnia è una compagnia che ha 13 navi e punta ad averne altre 16 fino al 2027 questo ci fa portare all'alzare l'astricella quasi più di 5 milioni i passeggeri che avremo a bordo e che ospiteremo a bordo i nostri navi entro il 2027 una crescita del 130% insomma cerchiamo di correre di cogliere tutte le sfide che il mercato di crociere oggi ci sta offrendo un mercato importante intanto stanno scorrendo le immagini bellissime delle grandi iniziative che fa questa importante compagnia pensate da sola tiene testa i grossi gruppi americani questo è un grande successo che fa onore alla nostra Italia una sola compagnia che lotta contro i grandi colossi americani Carnival e Royal Caribbean che da solo hanno 6 o 7 brand a testa MSC ha uno solo ed è la leader nel mercato italiano grazie poi avremo modo di parlare ancora delle grandi crociere MSC quest'anno arrivano in Italia 4680 navi che sbarcano croceristi in 70 porti quindi c'è una vera corsa ai porti italiani avere questi croceristi perché i croceristi portano soldi portano indotto sia per la città dove arrivano e per i posti dove si va in vacanza ne parliamo con l'assessore al comune del turismo di La Spezia La Spezia in 5 anni è stata veramente autora di un grande sviluppo da 50 mila croceristi nel 2012 650 mila quest'anno Sì intanto ci saranno 160 a costi durante l'anno la stagione si è aperta lo scorso 4 aprile le navi croceristi stanno arrivando noi come comune lo scorso anno abbiamo fornito informazioni specifiche appunto con i nostri punti informativi a quasi 50 mila croceristi che sbarcono per la città per visitare la città le nostre bellezze come Lerici Porto Venere insomma tutto il comprensorio del Golfo dei Poeti per quest'anno sono attesi oltre 800 mila croceristi è una città che grazie alle crociere ha fatto sicuramente un passo in avanti nei confronti proprio di una vocazione turistica della città stessa quest'anno la città ha superato le 500 mila permanenze in città di 500 mila notti trascorse in città dai turisti naturalmente io credo che un contributo questo lo dia proprio anche il mondo delle crociere che pur la Spezia non essendo ancora un porto di arrivo e partenza è però uno scalo che dà modo di conoscere la città e perché no ai turisti di farci ritorno con più calma godendone le bellezze diciamo che è una città che si è un po' rinconvertita la Spezia ha fatto per oltre 100 anni la base militare della marina militare italiana poi porto commerciale capitale della nautica con oltre 10 mila posti barca nel bellissimo golfo della Spezia e ora le crociere con il nuovo Termina che verrà pronto nei prossimi anni ma sicuramente questi anni ci hanno fatto capire che il turismo è una vera economia e quindi che merita la giusta attenzione i giusti investimenti e il turismo naturalmente ci deve porre nella condizione di essere una città aperta una città internazionale una città capace di creare dialogo e di offrire come dire ai croceristi un'opportunità anche di visita della città stessa non solo quindi un arrivo e una partenza permette che sono vicine ma è veramente godere le bellezze del golfo perché no ne parlavi nel tuo annuncio anche attraverso il mare attraverso il mare infatti queste sono le immagini della Spezia questa è la stazione ferroviaria avete visto piazza Brin che è un luogo storico della città avete visto le cinque terre facilmente raggiungibili via terra un po' difficile via ferroviaria molto meglio tante biciclette a disposizione di turisti croceristi che arrivano questa è la bellissima piazza Saint-Bond piazza Garibaldi ma ci sono società che lavorano nel mondo che accolgono i croceristi ed è nata sport ad orviaggi con la Manuela Marchese che aspetta i croceristi alla Spezia e gli fa vedere le bellezze del golfo dei poeti dell'isola Palmaria di Porto Vena del Cinque Terre in barca a vela un nuovo modo per scoprire le bellezze del territorio sì nuovo modo un nuovo modo che è sempre antico perché casomai le immagini che abbiamo visto prima non parlassero da sole c'è da dire che il Porto Vena e le Cinque Terre sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO rappresentano un po' ciò che la Liguria esprime ne rappresentano il carattere la bellezza aspra generosa e nello stesso tempo arroccate dietro i monti davanti al mare sono qualche cosa di unico e poi non dimentichiamo che vedere le Cinque Terre in barca a vela vuol dire avere un percorso intero da poter gustare si parte da Spezia dalla quale Paolo prima ha cantato e tessuto le Lodi giustamente si attraversa il Golfo dei Poeti del quale Byron era innamorato si passa davanti a Grotta Byron poi si fa rotta verso le Cinque Terre che rappresentano uno spettacolo veramente unico da vedere il cuore della Liguria perché mentre se si è nelle Cinque Terre fisicamente forse non se ne riesce apprezzare pienamente la bellezza perché le si vive in un altro modo diciamo la località dal mare le si può proprio ammirare in tutto il loro splendore e la barca a vela è un mezzo fantastico perché mentre la barca a motore diciamo che la vedo molto come un trasporto da un logo A a un logo B la barca a vela ci permette un tedesco direbbe Langsam noi adesso si usa dire Slow però ci permette piano piano di poter ammirare in tutta la loro bellezza questi antichi paesini pregni di storia di tradizione poi grazie anche al bellissimo Golfo dei Poeti scoperto da Napoleone nel 1800 questo Golfo Protetto dove si naviga in tutte le condizioni quindi non ci sono condizioni meteo impossibili siamo proprio dentro al Golfo dei Poeti sullo sfondo il Varignano le Grazie poi si gira e si arriva qui al punto nel canale fra la Palmaria sulla sinistra e sulla destra il bellissimo Borgo di Portovennele grazie Emanuele poi entreremo nel dettaglio parliamo di crociere importanti crociere esclusive Giver nel 1949 opera nel mondo delle crociere è leader in Italia nelle crociere fluviali Andrea Sì le crociere fluviali quest'anno è un anno di anniversari per Giver compiamo 70 anni e questo è il diciannovesimo anno che Giver propone le crociere fluviali abbiamo una lunghissima storia di crociere marittime e è un prodotto che ci dà tantissime soddisfazioni perché è un livello senza essere un prodotto di lusso come altri ospiti che sono con noi oggi propongono il lusso che propongono è più di tipo di qualità di esperienza del viaggio la crociere fluviale è un comodissimo modo per scoprire l'Europa quello che fa Giver è cercare sempre di dare a pro di fluviali in centro città o possibilmente il più vicino possibile al centro della città le dimensioni delle navi sono molto piccole abbiamo navi che vanno dagli 80 ai 215 passeggeri di 216 posti e questo permette quindi di vivere un'esperienza molto intima molto tranquilla molto placida e nel contempo poi di potersi dedicare completamente alla scoperta di queste città europee che non affacciandosi sul mare si potrebbero soltanto scoprire viaggiando in pulma la crociere fluviale invece ti consente sia di vivere il paesaggio che poi la destinazione allora nel frattempo stanno scorrendo le immagini queste sono le immagini del Doro in Portogallo non sembra ma in Portogallo c'è un bellissimo fiume in Italia purtroppo si è tentato di fare il crociere sul fiume Po ma vari problemi in Italia è difficile però voi riuscite ad andare sul Doro riuscite ad andare in Portogallo che sono queste sul Reno sul Danubio sul Volga che è la vostra diciamo crociera dell'Italia la via degli Izzaro sì quest'anno noi abbiamo portato a sei diciamo le rotte fluviali che copriamo in Europa come hai detto prima abbiamo la Russia da Mosca a San Pietroburgo con la via degli Izzaro passando sul Volga il fiume Svir facendo il canale Volga Baltico abbiamo il Danubio che probabilmente è la via fluviale più importante d'Europa abbiamo il Reno come hai detto poco fa il Douro in Portogallo con anche una porzione di viaggio via Terra in cui si toccano Fatima e Lisbona il Rodano e la Saona dall'anno scorso e quest'anno abbiamo introdotto l'Elba e l'Avern in generale insomma abbiamo una puntata intera da parlare vogliamo farvi venire voglia di andare in vacanza ma andare in vacanza nei posti giusti e sulle navi giuste dalle crociere fluviali con l'amico Andrea ritorniamo alle crociere abbiamo parlato della vostra espansione un successo mondiale che fa bene all'Italia perché MSC è nata in Italia il comandante Gianluigi Apponti era un ufficiale negli anni 60 tra Napoli e Capri e poi in pochi anni è autore di questa grande prestazione è un onore io sono mi pregio di conoscermi bene come compagnia ho scommesso le crociere a inizio anni 2000 quando non erano nessun tipo di vacanza c'è un forma televisivo che è sport dal punto di vi produce mondo crociera che raccontiamo tutte le crociere quindi gli appassionati possono vedersi tutte le puntate MSC diciamo sta vivendo un buon momento dottor Valentina sì il nostro armatore ci ha trasmesso l'amore per il mare l'amore per il mare che è un amore quotidiano che cerchiamo tutti i giorni di portare avanti si parlava prima con i colleghi delle crociere fluviale le crociere nord Europa noi presidiamo tra tutti il nostro caro mare nostro un mediterraneo qui abbiamo la casa qui siamo leader da anni presidiamo i porti di Genova Civitecchia Venezia che sono tra l'altro i porti maggiori per quanto riguarda il territorio italiano ma sono decine e decine i porti che noi utilizziamo e che ogni giorno cerchiamo di sfruttare al meglio per far sì che le vacanze dei nostri croceristi siano sempre più facili accessibili ogni giorno apriamo nuovi porti novità di pochissimo tempo fa 2020 apriremo anche il porto di Siracusa come imbarco apriremo anche Trieste da qualche anno operiamo anche sulla Spezia insomma cerchiamo di far vivere le nostre crociere in un modo più facile più semplice più accessibile possibile ai nostri italiani state vedendo le bellissime immagini che raccontano la storia di MSC ricordo per chi non sapesse cosa vuol dire la scrittura MSC mediterranea shipping company perché è nato con oltre 400 navi la potenza commerciale avete visto il comandante a ponte il presidente Pierfrancesco Vago con la madrina Sofia Loren che è la madrina di tutte le navi di questa compagnia che come abbiamo visto non si ferma al 2018 perché c'è un programma di arrivare a 26 navi fra 6 anni quindi da ora ne abbiamo 16 15 nel 2018 come fate a fare in programma c'è questo raddoppio della frotta un raddoppio che non è soltanto il raddoppiare i posti letti ma raddoppiare l'opportunità di vacanza per i nostri crocielisti prima la vacanza nel passato era una vacanza soltanto magari limitata a pochi target quindi magari viaggi di nozze oppure pensionati oppure qualche famiglia oggi è una vacanza che abbraccia da una notte fino a 119 notti con le nostre world cruise quindi giro nel mondo per più di tre mesi a bordo delle nostre navi cerchiamo di avere a bordo dagli studenti in gita scolastica alle aziende che vogliono premiare i propri impiegati dipendenti con mais quindi con incentive con gressuale cerchiamo di sviluppare non soltanto quello che era il turismo storico quindi quello della settimana ma un turismo che va sempre più in voga che può essere quello del weekend quindi un'alternativa al weekend di Numbero in Sicilia fino alla World Cruise con 119 notti un turismo che cresce ed è un mese che ci vuole abbracciare questa crescita una crescita importante che fa bene alla nostra Italia saranno nel 2020 13 milioni i croceristi che arrivano e anche l'amministrazione comunale di La Spezia nel giro di pochi anni vuole intercettare questa fascia turistica importante Assessore però intanto io ci tengo a dire una cosa che tutto quello che è stato detto finora è veramente musica per le mie orecchie io sono figlio di un marittimo che ha ricevuto la medaglia d'oro per lunga navigazione significa 25 anni a bordo di una nave 25 anni contando i giorni i mesi a bordo non 25 anni dal al sono capitano di macchine il caso ha voluto che nella vita poi facessi dell'altro per cui per me parlare di mare di navi da crociera dello sviluppo e della crescita di una città attraverso il suo porto declinato in ogni tipo di attività per un giusto equilibrio quindi noi parliamo della Spezia come porto militare come cantieristica come nautica da di porto e soprattutto dobbiamo capire l'amministrazione naturalmente l'ha compreso bene gli sforzi sono molto importanti per cercare di chiudere più presto con una stazione crocieristica degna di questo nome però intanto la gestione avviene grazie a un accordo tra le maggiori compagnie che si sono messe insieme hanno capito le potenzialità di questa città sanno che le 5 terre di cui noi siamo la porta ma vogliamo anche essere destinazione non solo quindi le 5 terre ma anche la Spezia la Spezia è appunto dicevo un veicolo importantissimo nel Mediterraneo un apporto importantissimo di tutto il Mediterraneo non dimentichiamoci che il Grand Tour che nel periodo romantico facevano i figli delle famiglie più importanti d'Europa avevano una tappa anche alla Spezia in questo tour che avveniva e quindi se in quegli anni il nostro golfo la nostra città era degno di nota per i giovani delle famiglie più importanti dei loro precittori figuriamoci se non lo può essere oggi con le nostre bellezze con il nostro mare con tutto quello che è appunto un golfo chiamato dei poeti già dai tempi dell'antica Roma se non sbaglio perché alle Grazie addirittura c'è una villa romana quindi è un luogo di prestigio già dai tempi antichi quindi voi Emanuela se arriva la Spezia voi proponete una escursione diversa lo imbarca a scoprire queste cose bellissime che abbiamo visto dalla barca quindi andare a vedere le vestigia romane alle Grazie i forti militari alla Palmari andare a scoprire le bellissime calette che ci sono fra Porto Venere e le Cinque Terre il cannetto le rosse le nere lo scoglio ferale insomma tutti i luoghi bellissimi tutti in barca a vela con i pericroceristi che sbarcano rigorosamente in barca a vela per fargli gustare al massimo quelle che sono come ha detto Paolo prima e incido ancora io adesso dei luoghi dei luoghi unici beh ecco ricordiamo la tua storia perché tu sei di Milano io sono di Milano una fermata professionista milanese che ha trovato l'amore in Liguria e ha trovato questo business importante per far vedere questo bellissimo territorio sì corretto corretto se arriva la spezza si accogliono i croceristi al termine del crociere pochi decine di metri in barca a vela si va a visitare questa è la bellissima Porto Venere pranzo a bordo e si ritorna per discussione sul pranzo a bordo perché a sedurre non ci sono solo i luoghi ma anche la nostra enogastronomia perché è una seduzione che arriva agli occhi ma anche al palato e quindi arriva all'anima grazie a tutto questo le nostre acciughe lo sciaccaitra per chi ha la fortuna di berlo il nostro vino delle cinque terre insomma una cultura del mare che è declinata appunto sia veleggiando sia in mare ma anche nella terra i nostri vigneti che sono a piombo sul mare e che sono il frutto del sacrificio dell'uomo che ha rubato appunto al mare agli scogli la terra per poter coltivare la vigna una terra bellissima una terra che fa onore alla nostra Italia come fa onore il lavoro che fa Giver Viaggi dal 1949 quindi oltre 70 anni di storia che fate crociere si mi sentivo un po' in colpa perché noi invece i passeggeri li mandiamo fuori dall'Italia ma infatti c'è di tutto non è che siamo molto tematici però quello che facciamo come Giver siamo l'unico operatore in Italia che vende diciamo programma crociere esclusivamente per il pubblico italiano nel senso che a bordo i posti delle navi che Giver noleggia interamente sono esclusivamente commercializzati dal pubblico italiano non per motivi antipatici ma semplicemente perché ci piace garantire un certo tipo di coerenza dell'offerta turistica che viene proposta quindi risparmiamo ai nostri passeggeri l'esperienza tipo della barzelletta dell'italiano francese e del tedesco si mantengono uno stile di vita che è più diciamo vicino al gusto italiano e questo permette anche a persone che magari non sono abituate tanto a viaggiare di vivere un'esperienza il più vicino possibile a casa ecco perché è importante nelle vostre navi anche se si abballestano c'è tutta l'assistenza italiana certo noi abbiamo la direzione di crocello staff turistico è tutto italiano comunque tutto parlante italiano c'è un'attenzione proprio a questo tipo di discorso Giver è una tradizione veramente di 70 anni e questo è uno dei dogma indiscutibili dell'offerta turistica di Giver nave interamente noleggiata direzione Giver e un'altra cosa che mettiamo tutte le escursioni le visite città sono sempre incluse già nel pacchetto che vendiamo in quanto riteniamo sia giusto vendere un viaggio che di per sé come quando una persona esce dall'agenzia di viaggio ha comprato un viaggio completo leader nelle fluviali ma leader anche abbiamo visto queste bellissime immagini che ci hai fornito nel nord Europa capo nord l'islanda abbiamo visto anche delle balene quindi abbiamo visto anche oltre il circolo polare artico si Giver sul grande nord ormai ha quasi 60 anni di tradizione e quest'estate avremo questi fantastici viaggi con volo diretto da Milano per il circolo polare artico per vivere meglio il nord della Norvegia come durante l'inverno abbiamo una proposta analoga per Trunso per vedere l'aurora boreale aurora boreale il sole di mezzanotte quindi tanta Italia in questa puntata del nostro talk show S4 dedicata al turismo e alle crociere ma noi vogliamo scoprire tutto il mondo ora c'è la pubblicità ma non c'è il telecomando perché poi andremo addirittura anche al polo sud vi faremo vedere i pinguini vi faremo vedere delle immagini incredibili perché noi di sport dal punto di vi siamo andati anche laggiù poi con l'amico Luca parleremo del giro del mondo di questa bellissima crociera la terra del fuoco Ushuaia insomma è il mio sogno prima di andare in pensione voglio farmi il giro del mondo che poi mi ha detto che è una crociera che piace tantissimo piace tanto piace tantissimo non torniamo del telecomando cari amici telespettatori perché lo spettacolo del turismo delle crociere di sport dal punto di vi ritorna subito dopo l'interruzione pubblicitaria a tra poco Giver da oltre 70 anni in viaggio con voi la prossima estate Sicilia o Sardegna con GNV porti la macchina la bici gonfiabili la suocera e anche lui in cabina con te prova a farlo in aereo prenota subito su gnv.it Sabice fatti di sport sportautoviaggi.it l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportautoviaggi.it in collaborazione con sportautoviaggi.it Giver da oltre 70 anni in viaggio con voi prenota subito su gnv.it e della Sardegna e della Sardegna e della Sardegna